Musica You can dance, every dance with a guy who Dove so fessi, avanti Se è una contravenzione non posso firmare, se vende aspirapolveri non ci servono, se siete testimoni di Geova siamo cristiani Mi piacciono queste canzoni, sono velo di lui, aiutano a creare l'atmosfera quando uno deve Eccoli, 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 bene arrivati, bene arrivati Avete fatto buon viaggio? Curioso il tuo maggiordomo, lo tengo finché so che farne Poi, poi arriverà il giorno quando che... Signora Pina, si calmi Mi calma un corno Oddio Sono morta di crepa a cuore E questi sono gli arcangeli pronti per portarmi in paradiso Si angeloni, sono vostra Voglio morire Ma no signor Roma Nord o Sud? Sud Terrone Io per sicurezza un ciao nonna lo butto lì, e poi vediamo Solo questa si mancava Ah, chi è? Sono io, cretino E quanti anni hai? 37 Io 74 L'avresti mai detto? Beh, magari proprio 74 Mai! Non l'avresti mai detto? Mai, mai Una donna con i capelli bianchi ti farà diventare ricco Ho una pensione altissima, rendo anche la reversibilità di mio marito Ora hai un brutto incidente Mi si rompono tutte con le gambe e anche un braccio Eppure due costole rotte E non ti ricordi come ti chiami La signora vecchia se ne va e ti lascia lì E se ne va E ti portava lì Scusa, non ci devo neanche presentati, io sono di là, tu? Io no Che pretende che la porti al bagno E anche la figlia che mi ha detto che svuotava da sola il vaso da notte E invece non è vero, da sola non fa niente Ha voluto addirittura che ne facessi il rumore dell'acqua per suscitarne lo stimolo E questi addobbi natalizi? Perché? Dopotutto non mi sembra essere A me sembra Natale! Bianco Natale, gioia nel cuor Mi Daniello Redentor Soami Domani sera nasce il bambinello Uomo avvisato Mezzo soldato Psss Avvocato Faccia il furbo mio caro Sa quanti anni sono che faccio questo mestiere? Ma si figuri se io per un'ora... Ma che fai? Ti metti a discutere Ma non mi vado a passare per fesso Non ho valigia E' perchè lei ti sembra un autobus? Che figo spiegazioni! No, 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 ecchi... Si insomma ho finito le supposte di glicerina E siccome ho questo piccolissimo disturbo ecco Oh che coincidenza! Ne ho giusto una scatola intera nuova nuova E vieni in camera mia! No, questo ragazzo Se mettava seduto sul ciglio di un burrone E guardava giù In fondo al burrone, tutti ammassate C'erano un sacco di bare di legno Quanto sei anonima! Oh, finalmente sei arrivata! Hai portato la tracciata? Shhh! Zitto, zitto, sono tutti in casa! Come stai? Hai fatto un buon viaggio? Tutto bene, tutto bene Ho visto Cristiano Beh, chi te ne pare? Come faccio a dirlo? Vedremo Quando tu sei veramente chi sei Ti conosci E sai quali sono i tuoi desideri nella vita Allora sei pronto per sapere chi vuoi vicino a te Qual è la persona giusta per condividere quel percorso Certo E tu lo sai chi sei Cosa vuoi? Ma quanto c'è di cui in questa scelta? Io non lo so Ecco, ad esempio Questa usanza della nostra famiglia di farsi un preghiamo di sangue la mattina di Natale Io mica la conoscevo Papà non ci aveva trasmesso certe tradizioni Così è veramente Natale Si va Un momento però Questo è un Natale fin Dica è Natale Natale Siamo a marzo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti